Complici il caldo e la domenica, una folla immensa invaso da notte fonda il Monte Balzata, pronti ad accompagnare la statua del Santo Patrono San Michele Arcangelo dalla sua casa sulla vetta del monte fino alla chiesa della Santissima Annunziata, dove resterà per tutto l'inverno. Una giornata intensa dove è stato possibile vivere in grande serenità tutti i riti che accompagnano la processione del Santo Patrono tra le vie della parte antica di Sala Consilina. Dopo la Santa Messa celebrata da Don Gabriele Petrocelli e Don Michele Totaro, una grande folla tra scroscianti applausi e lacrime di commozione ha salutato l'uscita dalla chiesa della statua per poi avviarsi nella discesa dal monte, con la statua preceduta da numerosi cinti votivi portati in testa da bambini e giovani e accompagnata nel tragitto da preghiere e canti religiosi. Un percorso denso di momenti di festa con gli antichi strumenti, zampogna e ceramella che accompagnavano la lunga processione tra balli, ricchissimi boffè e votivi e tanto divertimento. Riti religiosi e di buon auspicio hanno poi accompagnato il percorso tra i suggestivi vicoli del centro antico di Sala Consilina, in particolare legate alla benedizione dei prodotti della terra e quindi per chiedere la protezione del raccolto, fino a raggiungere piazza Sant'Eustachio, dove si è svolto il momento più atteso del volo dell'angelo con un bimbo vestito da San Michele che ha attraversato, legato da una carrucola, per tre volte la piazza, portando in dono la statua incenso, fiori e oncero e chiedere la protezione del popolo salese. La processione è quindi ripresa proseguendo nel percorso tra le stradine della parte antica di Sala Consilina fino a raggiungere la chiesa della Santissima Annunziata, dove è rientrata la statua dopo la celebrazione della Santa Messa e il rito dei tre giri su se stessa della statua del Santo Patrono in segno di benedizione di tutto il popolo. Grazie! Pozonti! La scuola! Moleno! La scuola! La scuola! Poi la scuola! Arbang石-